in arrivo anche naturalmente le donzellette la radice sta cedendo e lascia via libera a Corsi bravo soprattutto per Corodini trofeo Maremonti Recanati Uscita l'applauso anche per il numero 93 il giovane Fiorucci Alessio della società Sant'Egidio Corodini Michele della Pelliniano l'applauso tutto altro per il numero che stanno per transitare sul traguardo numero 28 e numero ora concorrenti che stanno per transitare sul traguardo vediamo il giovane capo di casa Bruno poi subito dopo con il numero 60 numero 65 e l'applauso corale per tutti grazie 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 grazie